E adesso chiamiamo in scena un altro artista dell'undicesima edizione di Premio Lucio Dalla, Francesco Altomare. Grazie Francesco per essere con noi anche qui a Sanremo e all'improvviso cosa è successo? Perché hai deciso di venire anche qui a Sanremo? Allora direi questa volta è il premio che mi ha portato qui e me la sono un po' goduta, ho fatto questa canzone dove per me me la prendo come premio, direi mi sono dedicato un po' di tempo, circa tre minuti, la canzone dura così, anzi di meno, due minuti e cinquanta. Un premio per sognare, un premio per volare, un premio per staccarci un po' dalla realtà diciamo. Ecco anche per te, allora ce l'hai praticamente raccontato a parole, adesso lo sentiremo in musica, il brano, non è un caso il termine che ho usato prima, il titolo del brano? All'improvviso. Appunto, Francesco Altomare. Non pensare che non ti capisca, quest'estrario adesso cosa vuole, si presenta all'improvviso con mille parole. Non pensare che non ti stupisca, questa cosa non l'ho fatta mai, è stato tutto all'improvviso, adesso lo sai. Mi prendo il tempo giusto, il tempo di sognare, mi regalo il tempo giusto, il tempo di volare. E poi salutare, non pensare che non la rossisca, al pensiero che giri di su, quando ti dico che come te non ne ho visto più. E all'improvviso come sopra un ring, quando sei certo che vinci tu, mentre pensi ad un triunfo, ti ritrovi giù. Mi prendo il tempo giusto, il tempo di sognare. Mi regalo il tempo giusto, il tempo di volare. E poi, e poi, e poi, mi prendo il tempo giusto, il tempo di capire, il motivo esatto che mi ha fatto poi studiare. Mi prendo il tempo giusto, il tempo giusto, il tempo di capire, mi prendo il tempo giusto, il tempo di volare. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi. Grazie.